salve a tutti qui blocco soft tire farò vedere ora molto velocemente le classi nuove che ho fatto che questa è la cr col mirino laser e il tamper e i perc sono sempre i soliti poi ho fatto questo è lo scudo anti sommossa con l'm93 a raffica a kimbo come perc ci sono gioco di prestigio principiante cioè corri più veloce e il comando cioè hai la distanza del corpo a corpo migliorato una roba del genere più lontano una cosa così sono qua per dirvi che ho appena fatto il risultato della madonna hanno fatto 30 uccisioni e tre morti su quella mappa che piove sempre under pace una roba del genere e ho detto la film questo detto no tanto ho appena fatto il filmino su under pace o quello di prima e fa schifo quindi non lo faccio e ho fatto il risultato la madonna sono riuscito a fare 9 uccisioni 8 chiamato il pay flow e ha fatto veramente una strage bestiale e poi sono riuscito a vincere mi posiziono più avanti fateli fuori allora approvvigiano l'unica cosa è che è piena zeppa di tanga nel senso che stanno tutti fermi poiché sono tutti sui tetti e quindi risulta un po difficile fare delle mani ducate che fanno a mila gange il giro è buono tutto il segnale ok sempre questo uobbino è iniziato a vincere prendiamo avanti visto che abbiamo due a dirvi approvigionamenti per il metro di arrivo approvigionamenti per il metro di arrivo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.